Il senso della confusione, no? Tutto è disinformazione, nulla è disinformazione. Mettere tutto dentro un pentolone. La droga, in strada, l'olio, il prezzo, il benaltrismo. Bonino. In qualche modo io me lo aspettavo che questi due disegni di legge sulla cannabis e lo iusole sarebbero stati bloccati. C'è molti modi di farlo. Intanto l'hanno rinviato in una settimana. Secondariamente saranno ovviamente presentati migliaia di emendamenti e quindi si bloccheranno ancora. Mi avvilisci, ma non mi stupendo. No. No, non mi stupisci. Anzi, me lo aspettavo. E credo che questo sia un segnale. Comunque, i diritti non sono mai stati, come dire, un oggetto popolare nella classe politica. E quando li abbiamo ottenuti sono stati trainati e trascinati da referendum, non violenza, disobbedienza civile, eccetera, eccetera. Spesso si dice, come appunto adesso dice la destra, non è il momento, non è una priorità. C'è altro, c'è altro problemi. C'è altro da fare, eccetera, eccetera. Allora è sempre così. E chi insiste è un radical chic che viene dai parioli. e quindi andiamo avanti. E questo stereotipo è aggravato anche dagli elementi di volgarità espressiva che non meritano appunto l'Aula del Senato. Allora...